Mi provo per Pisa. I'vane 2008 e venirei in Dandè, mi sono attraverso partecipare. E qui mi sono partì in base al festival Dandè e qui sono attraverso un'automobile. Mi sono arrivato a cantare in natura e musica unì junto. Avemo una rotazione. Avemo un festival di mochia. E qui sono arrivato al ambiente di Dandè e qui mi sono attraverso il Hobie. Noi, avemo notte giurato di un festival di mochia? Certo, inizia mi ho inizio, e come ho inizio come se ㅋㅋㅋㅋa sulla nuova, dove ho inizio, le ho già assicurato le nuove e il nostro weree fissuto, mentre vi ho inizio come sono molto grande e allora si vuole un'esitto molto bene, ma così mi, come se vuoi inizio, true, non penso che, non penso che la nuova, non penso che è una nuova, non penso che si, ma non penso che per i nostri fissi, non venite con i nostri fissi. Nel 2020 ho una sorpresa, ho cantato con i gruppi di mamma, per il carnaval, per il festival di tumba contest, per il marzo, ho formato una parte di hymne in bandera, e senza dubbi che non stiamo arrivando a Arroba Dach, quindi la trayectoria di musica per l'altro anno è un hobby grande per me. Sì, mi chiedo di essere un po' di Arroba, in generale, per un anno nuovo, 2020, con un amore, compasione, felicità, carino, e un amore e un amore, 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 un amore e un amore. Questo è molto buono, non ci sono sempre del giro dios. Scorriano il dante, del suoi tiro, se non voglio, viste un dante, per il suo tiro, e anche il giorno 1 e il giorno 2, anche il giorno 2. Quindi il nostro dante è accorre anche il giorno 6. Vi chiamo liberamente, con la mia numero 742 3544, 2544, ove non potete contattare con me da me direi per Facebook.